Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria e entrando da lei disse Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio ed ecco conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide e il suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come verrà questo poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco l'Isabetta tua parente nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore avvenga per me secondo la tua parola e l'angelo si allontanò da lei Parola del Signore Sia lodato Gesù Cristo Ricorre oggi questa memoria, questa festa bellissima della Vergine Maria chiamata con il titolo Beata Vergine Maria del Rosario e questa memoria che è anche una festa per noi affonda le sue radici in un evento storico molto preciso la famosa battaglia di Lepanto del 7 ottobre del 1571 tra i turchi e la Lega Santa formata da un insieme di alleati che hanno cercato di difendere il bacino del Mediterraneo dall'avanzata e al di là dell'evento storico che tutti conosciamo molto bene dove la frotta cristiana era assolutamente inferiore come avvenne poi anche a Vienna stesso discorso nonostante ci fosse un'inferiorità nonostante ogni previsione facesse pensare che questa Lega Santa avrebbe perso di fatto invece vince e per tutto il tempo di questa battaglia molto forte era stata invocata la Madonna attraverso attraverso la recita del Santo Rosario e poi allora si capisce per quale motivo la Madonna poi nelle apparizioni ricordiamo Lourdes ricordiamo Fatima ricordiamo Caravaggio qui vicino a noi la Madonna richiama sempre la preghiera del Rosario come a questa preghiera alla quale è legata ogni possibilità cioè la Madonna ci dice pregate il Rosario perché con questa arma potete ottenere tutto ecco questo è un esempio è un evento miracoloso che ci testimonia come veramente nulla è impossibile a Dio soprattutto attraverso questa mediazione così bella della Vergine Maria e fu per questo motivo per questa vittoria che San Pio V Papa decise di fissare una festività religiosa proprio il 7 di ottobre cioè oggi che in un primo momento era dedicata a Santa Maria della Vittoria perché appunto avevano vinto e in quello stesso giorno San Pio V mentre era intento di recitare il Rosario ebbe una visione in cui i cristiani appunto avevano vinto sui turchi e Don Giovanni d'Austria mandò un messo Don Giovanni d'Austria che era il comandante di questa Lega Santa mandò un messo che effettivamente confermò la visione che il Papa aveva avuto e allora in ricordo di questo il Papa rifinì definitivamente la preghiera dell'Ave Maria che è quella che abbiamo noi oggi e stabilì che in ogni chiesa si suonassero che si suonassero le campane al mattino a mezzogiorno alla sera cioè recitando l'Angelus per ricordare questa incredibile vittoria quindi quando noi recitiamo l'Angelus che noi dicevamo perché reciti l'Angelus perché faccio memoria di quello che è accaduto il 7 ottobre del 1571 faccio memoria di questo evento prodigioso faccio memoria di questo intervento incredibile della Vergine Maria ringrazio la Vergine Maria di avere impedito questa invasione e inoltre aggiunse anche nelle litanie lauretane che si recitano appunto alla fine del Rosario l'appellativo ausilium Christianorum ausilio dei cristiani poi Papa Gregorio XIII cambiò il nome in Santa Maria del Rosario e Pio X San Pio X la stabilì in modo definitivo il 7 di ottobre questa invocazione della Beata Vergine Maria del Santo Rosario la sua istituzione si deve però a San Domenico il quale era impegnato a combattere le resie degli Albigesi e la tradizione racconta che a San Domenico a parte la Madonna che gli consegnò il Rosario indicandogli nella preghiera l'unico modo per difendere la vera fede siamo qualche anno fa ovviamente no? però vedete la storia si ripete sempre nel senso che sempre abbiamo bisogno che la vera fede sia difesa perché sempre ci sono stati degli eretici cioè di qualcuno che ha cercato di corrompere la bellezza della vera fede e la Madonna indica nella preghiera e soprattutto nella preghiera del Rosario l'arma vincente per custodire la vera fede mesi di ottobre come mesi di maggio sono due mesi dedicati alla Vergine Maria in modo speciale sono due mesi dove siamo chiamati a vivere con più intensità la preghiera del Rosario anche se di fatto dovremmo viverla così ogni giorno dell'anno non solamente maggio e ottobre e dovremmo veramente credere che in questa preghiera così semplice dove si ripetono queste Ave Marie questo saluto dell'Angelo l'Ave Maria è un condensato di Vangelo c'è dentro tutto il nucleo il cuore pulsante del Vangelo in questa recita dell'Ave Maria noi oltre a far memoria di Gesù oltre a far memoria dello Spirito Santo oltre a far memoria di Dio Padre noi chiediamo alla Vergine Maria questo soccorso costante nella nostra vita di fede quindi capite non ha senso che ci sentiamo disorientati alle volte qualcuno dice ma mi sento un po' disorientato non so più bene no non è che non sai più bene è che noi sappiamo bene quali sono i fondamenti della fede basta non lasciamoci ieri oggi domani come hanno fatto i santi non lasciamoci mai confondere se qualcuno tenta di scombinare le carte San Domenico ha combattuto con la preghiera quelle eresie Sant'Adanasio ha combattuto l'eresia di Ario e via di seguito anche il tempo di San Francesco stessa cosa c'erano le correnti eretiche e San Francesco le ha combattute come? attraverso nel suo caso una piena conformità a Cristo attraverso una vita di preghiera e di penitenza molto intensa la stessa cosa dobbiamo fare noi uguale una vita di preghiera una vita di adesione a Gesù di conformazione a Gesù una vita di penitenza dove tutto questo ci permetterà di mantenere l'occhio lucido pulito per poter continuare a vedere i contorni precisi senza sbavature di quella che è la nostra fede la vera fede senza lasciarci sconvolgere scombinare perché ovviamente Dio fa i suoi piani e il demonio fa i suoi insomma sappiamo dice San Paolo che è una battaglia contro queste potenze dell'aria appunto lui fa i suoi e Dio fa i suoi bene noi da che parte stiamo? ovviamente stiamo dalla parte di Dio e quindi faremo di tutto per continuare a portare avanti questa adesione è un'adesione che deve essere costante alla fede e quando questa vera fede ci dice no quello no lì no niente noi con tanta semplicità obbediamo Sant'Atanasio ha obbedito ciecamente alla vera fede anche se è dovuto andare in esilio cinque volte anche se è stato perseguitato anche se gli hanno fatto di tutti i colori e vabbè fa niente lui è andato avanti per la sua strada questa adesione perché interiormente grazie a ciò che abbiamo imparato noi sappiamo ciò che è giusto ciò che non lo è ciò che è secondo Gesù è ciò che non lo è siccome il demonio è una scimmia scimmiotta costantemente perché è invidioso e geloso lui scimmiotta costantemente quello che fa Dio ma una scimmia non fa le cose fatte bene no è una riproposizione perversa una riproposizione corrotta abbruttita della bellezza di Dio ecco noi allora vedendo la scimmia dobbiamo andarcene via e aderire sempre di più al Signore sia lodato Gesù Cristo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti